Il Sole a Scuola è il nome del progetto cavalcato dalla provincia di Pescara che ha consentito all'amministrazione guidata da Guerino Testa di ottenere un finanziamento dal Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in due scuole di Pescara. Uno all'Istituto Tecnico Tito Acerbo, l'altro all'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta. Sì, è un progetto molto importante dal titolo Il Sole a Scuola ed è un progetto cui hanno partecipato l'Istituto Acerbo di Pescara, all'Istituto di istruzione superiore Volta di Pescara. Molto importante perché abbiamo concretizzato un'idea che era già in essere da diversi anni e realizzare degli impianti fotovoltaici sui nostri tetti è stato molto anche formativo per i ragazzi perché all'aspetto e alla concretizzazione di un'opera si abbina anche l'aspetto legato all'educazione e soprattutto l'approfondimento di quelle che possono essere tematiche legate al risparmio energetico e l'utilizzazione anche di energie rinnovabili alternative, cosa che sinceramente è stato da subito sposato a pieno. Con la collaborazione della provincia di Pescara l'Istituto Acerbo si dota di un impianto fotovoltaico e quindi insomma da un lato il risparmio dall'altro la sensibilizzazione verso queste tematiche. Sì, sensibilizzazione che è dovuta perché noi abbiamo un settore tecnologico, costruzione, ambiente e territorio quindi gli ex geometri che proprio hanno nel loro programma curricolare lo studio di quello che è l'aspetto economico dei vantaggi e delle caratteristiche di questi impianti. Quindi un progetto veramente proficuo per la nostra scuola. Grazie a tutti.